Oggi andrò a fare un regalo ad uno di voi, ma se anche tu vuoi ricevere un regalo da parte mia ti do 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1, e vai a lasciare un bellissimo like in questo me se vuoi ricevere un regalo da parte mia Beh appunto il vincitore che riceverà un regalo da parte mia esattamente qui su Fortnite Che riceverà, vieni qua esattamente, il signor Rxrbananita Quindi andiamo a fare subito un regalino, acquisto un dono, un regalino Perfetto, dono inviato, spero che questo regalo ti piaccia, 50 like andrò a fare un altro regalo Mi raccomando codice Codingamer582 perché il prossimo regalo lo farò molto molto più costoso Quindi mi raccomando supportami con il mio codice creatore Oppure puoi anche supportami inserendo questo codice su questa applicazione Oltre che usare il mio codice creatore Codingamer582 Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, bye Ah e vai a prendere un racconto dello schermo